Governance del territorio, infrastrutture, potenziamento del ruolo delle zone omogenee. Sono alcune delle richieste emerse nell'incontro che si è svolto nell'auditorium della città metropolitana in vista della elaborazione e adozione del piano strategico, di cui l'ente si doterà nei prossimi mesi per indirizzare le politiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio in modo il più possibile partecipato. La Commissione consigliare per la formazione, l'adozione e la revisione del piano strategico metropolitano triennale ha infatti tenuto un'audizione allargata alle parti sociali, economiche e istituzionali. Sono intervenuti un centinaio di invitati dal LUNCE, Malacol Diretti, dalle fondazioni bancarie e agli ordini professionali, dalle associazioni e ai sindaci. Ai partecipanti il sindaco Piero Fassino ha illustrato il quadro di competenze generali attorno a cui dovrà svilupparsi il piano, con l'obiettivo di ottenere proposte e suggerimenti, mentre Fiorenzo Ferlaino dell'IRES Piemonte ha fornito una fotografia dei punti di forza e delle criticità del territorio, a partire da un'analisi statistica. Sono stati invitati tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio metropolitano con l'obiettivo di innanzitutto presentare la metodologia di lavoro, di illustrare quello che sarà il percorso di formazione del piano strategico e soprattutto di dare loro spazio di poter avanzare proposte, contributi e indirizzi a questo documento che ha carattere fondamentale per quanto ci riguarda. Questo è il primo appuntamento, daremo loro la possibilità di dare ulteriori contributi iscritti e ci riaggiorneremo fra 15-20 giorni per completare la parte di ascolto e poi gireremo per tutte le aree omogenee per presentare questa proposta di lavoro ai sindaci e confrontarci con il territorio. Il tema urgente innanzitutto è mantenere l'identità e l'omogeneità della città metropolitana pur con caratteristiche territoriali e orografiche che la rendono ovviamente molto articolata. In questo è apprezzata l'attenzione verso le aree più marginali, la montagna, le aree più periferiche e tutti ovviamente cercano di ricostruire in questo mosaico una propria originalità e un proprio modello di sviluppo, chiedendo ovviamente attenzione sulle infrastrutture, sugli aspetti ambientali, ma con la disponibilità a selezionare insieme la priorità nell'agenda politica e amministrativa e nella destinazione delle risorse.